Chiara guarda il mare ma non riesce a raggiungerlo. La storia si ripete ogni estate perché Chiara convive con una disabilità motoria che non le consente di muoversi liberamente. Eppure basterebbe poco per poter raggiungere la spiaggia, uno scivolo e una passerella percorribile che arrivi fin quasi al bagnasciuga. Il minimo indispensabile in una città civile, un miraggio per Gela. A giugno l'amministrazione ha annunciato la realizzazione di nove accessi spiaggia attrezzati con delle pedane per consentire a Chiara una disabilità motoria di raggiungere il mare. Pochi considerato il fatto che molte passerelle si interrompono a diverse decine di metri alla spiaggia rendendo impossibile a una persona in carrozzina poter proseguire. Restano però gli accessi dimenticati, spiagge frequentatissime sul lungomare cittadino che diventano inaccessibili a chi convive con una disabilità. È il caso ad esempio della spiaggia di ospizio marino, una delle spiagge libere più frequentate della città proprio di fronte a casa di Chiara a cui si può accedere solo attraverso una scala in legno ripida e traballante e gli ostacoli non finiscono qui. Al termine della scala e spiaggia si può arrivare solo attraversando una passerella sconnessa che si interrompe dopo solo pochi metri.